Salve a tutti, in questo video vi voglio mostrare la tessera gilda che ho acquisito fino ad ora in Monster Hunter 4 Ultimate. Allora, principalmente voglio far vedere le caratteristiche che ho acquisito. Sono GC214, come potete vedere questo è il mio equipaggiamento, le varie missioni che ho completato, quante sono state, il legame, e scorrendo avanti, quindi andando verso destra, e possiamo vedere anche il mio nome, ovviamente passando con R potremmo vedere anche quanti utilizzi ho fatto delle varie armi, le missioni che ho completato e le ore di gioco sono 459, quante volte ho utilizzato i vari palico, e soprattutto la cosa che mi interessa di più è la tessera gilda, come potete vedere al momento l'ho completata fino all'85% con 154 premi, in tutto i premi sono 180, la domanda è, riuscirò a ottenere tutti i premi, quindi a fare il 100% prima che il mio GC arrivi al 999? Beh, questa è una scelta che potrete fare voi in una vostra supposizione, io cercherò di arrivarci ovviamente prima di arrivare al GC 999. Arrivederci a tutti e alla prossima con il prossimo video. Grazie. 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 Grazie.